la connessione internet non può essere aumentata ma di sicuro può essere ottimizzata se hai una super connessione probabilmente questo video ti servirà poco ma potrebbe esserti utile nel caso in cui dovrai partecipare a una video call in viaggio in aeroporto o comunque in luoghi dove la connettività non è delle migliori le cose che puoi fare per ottimizzare al meglio la velocità di trasmissione sono 1 sospendere tutti i software cloud sospendere la sincronia di icloud google drive dropbox ti permette di non usare l'upload e dedicarlo interamente alla videochiamata 2 se ne hai la possibilità utilizza un cavo di rete e non una connessione wifi se proprio non riesci fai in modo di essere il più vicino possibile al punto del wifi 3 se la connessione è veramente scarsa prima di avviare la videochiamata seleziona una risoluzione di 720p invece di 1080p nel software video di chiamata 4 se vuoi ottimizzare ancora di più cerca di metterti in una posizione dove lo sfondo alle tue spalle sia scuro e non cambi mai le immagini streaming meno variano più vanno veloci 5 se utilizzi un pc o uno smartphone collegalo alla corrente quando sono alimentati i dispositivi riescono ad aumentare la potenza del segnale wifi 4g o anche via cavo 6 metti sempre il muto e toglilo solo quando devi realmente parlare dovresti farlo sempre per evitare i fastidi nella chiamata ma a maggior ragione se la connessione è scarsa lasciare il muto diminuisce la quantità di dati inviati 7 lo sfondo del tuo desktop non deve avere immagini ma colore a tinta unita nero il nero è il colore che viene condiviso più velocemente e questo permette anche una condivisione dello schermo ottimizzata 8 se la video call è riservata e ti colleghi da reti non sicure dovresti sempre utilizzare un software vpn io ti consiglio safer vpn per ora è tutto e ci vediamo nella prossima lezione